ciao a tutti i dreamlake uno vi dà il benvenuto al nuovo episodio di mangiamo fuori oggi giornata specialissima ristorante prima di tutto perché i bambini per la prima volta sono qua con noi sarà un grandissimo casino che chi è che piange e i nostri stanno portando con calma i bambini dentro no 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 tesoro calmati cosa c'è maia amichevole affetto fai una pernacchia sulla pelle ma anche oggi tra l'altro abbiamo una giornata a menù specialissimo chi è che telefona e tesoro tra un po arriverai fidati in alani che arriverai perché dicevo oggi è una giornata specialissima al ristorante per il menù speciale di oggi che prevede un solo piatto il più costoso in assoluto sul menu gli scarabèi saltati in padella no non sto scherzando oggi piatto unico e mangiamo solo quello no 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 ti prego non cominciare a piangere lucas mi prego cosa c'è cosa c'è tu salim ce la stai facendo più o meno sì lei è nala lascia stare maia se ne sta occupando dara tra l'altro questi due cominciano ad avere dei piccoli problemi con i loro stili di vita perché lei ha lo stile di vita tecnofobo e si attiva praticamente sempre anche senza motivo per cui tesoro prima di iniziare a fare qualsiasi altra cosa beviti questa pozione per rimuovere lo stile di vita e rimuoviamo lo stile di vita tecnofobo mentre salim che anche lui era in crisi prima per il suo stile di vita si prenderà una pozione chiaramente ho usato i punti di salim perché quelli di dara ci serviranno per il prossimo episodio perché nel prossimo episodio cosa faremo faremo l'ambrosia e proveremo a venderla allora guardati un canale prima di tutto guardati i notiziari perché praticamente non riesce a divertirsi con nulla per cui forse adesso avendo tolto questo cavolo di stile di vita riusciremo a fare qualcosa per cui io direi che attendiamo l'apertura del ristorante mamma mia se non si calmano questi bimbi cosa che avete niente lei forse maia un po di fame ecco maia potresti darle il biberon salim però prima ti bevi la pozione per rimuovere lo stile di vita unitario che prima ha rotto le scatole quando ero off camera e dai il biberon nutri a maia ma non è possibile dai maia adesso arriviamo guardate ragazze guardate vostro fratello com'è bravo si è messo lì a dormire tranquillo non rompe le scatole su dai oggi deve essere una giornata particolarmente piena per cui vedete di non di non scassare le scatole ecco giusto per non dirlo in maniera troppo volgare per cui prenditi una porzione d'ara mangia perché si ne hai bisogno salim tu anche dovresti divertirti avresti anche bisogno di una doccia ma noi abbiamo il nostro spazio qua adesso possiamo utilizzarlo e divertirti dato che ci stai guarda ancora un canale guardati sempre notiziari e salim dai metti giù la bimba mettila giù che adesso è a posto salim chiaramente sarà deputato alla cura dei bambini se non avrà la possibilità insomma di staccare cioè allora dara starà più che altro al ristorante salim nel tempo libero o meglio nel tempo libero sarà al ristorante per il resto vaderà ai figli no non ci interessa siamo poverissimi non possiamo permetterci niente c'era anche un piatto un bicchiere qua vabbè dai vediamo com'è questa apertura se i nostri clienti gradiscono gli scarabèi anzi possiamo anche già aprire per cui apri il ristorante aperto sta andando a ripulire tutto brava dara poi però ti cambi d'abito eh per cui cambia abito sono stati mandati all'asilo ah non si possono tenere i bebè quando il ristorante è aperto meglio non è che mi faccio problemi io eh cambiati con oggi c'è un clima normale per cui ti metterai questo sì sì bambini all'asilo io sono giusto contenta per cui salim dove stai andando tu abiti cambia abito e ci mettiamo anche tu mettiti elegante perché oggi è una giornata specialissima perfetto ragazzi benvenuti al lavoro basta sta cosa benvenuti al lavoro eh sì frog è in gamba lo sappiamo è il nostro dipendente perfetto eh dara smettila con la tv vai qui e iniziamo a salutare un po' di gente per cui chiediamo non nell'ambrosia eh chiedi come va il lavoro e insomma ci occupiamo anche dei nostri dipendenti vediamo se arriva un po' di gente perché qua non si sta ancora facendo vedere nessuno secondo me sono tutti spaventati dal fatto che che oggi c'è solo ci sono solo scarabei solo per i palati più raffinati gestisci frog chiedi come va il lavoro frog caro buongiorno buongiorno a tutti noi abbiamo chiuso qua non mi ricordo sì 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 l'avevamo chiusa la porta benissimo perfetto tutto bene capo nulla da segnalare perfetto salim è già lì che si sta dando da fare sul computer ah mi sa che ho dimenticato a casa no non l'ho dimenticato benissimo non so se riusciremo a produrre qualcosa ma vabbè noi ci proviamo eh giusto che ci mancava anche il tavolo da pranzo qua nella zona living scusate bene sistemata questa incombenza fabbrica puoi fabbricare un'altra sedia che ci servono per la nostra zona living la nostra privata salim no mi sa che non si può non abbiamo punti fammi controllare la sedia costa no 20 e 35 come non abbiamo abbastanza risorse ma possibile ah perché non ho capito vabbè fa niente salim divertiti salve salve da il benvenuto da il benvenuto sì da il benvenuto e anche alla nostra lily feng da il benvenuto salim si sta godendo la giornata decisamente peccato che non abbiamo i pezzi per produrre altre sedie per la nostra zona giorno fa niente allora dato che ci siamo dato che dara deve ancora farsi una doccia prima di tutto e poi io direi che si può guardare rete cultura mondiale perché non è felicissima oggi è passato mezzanotte in bianco posso capirla allora salim lascia stare dara si occuperà dei clienti per cui controlla la situazione al tavolo e vediamo se i nostri clienti sono felici di assaggiare gli scarabèi preparati con tanta cura dalla nostra michela e della nostra nalani ragazze come va in cucina chiedi di cucinare sì normalmente va bene chiedi come va al lavoro e anche tu michela chiedi come va al lavoro perché se riuscite a farmi bene questi piatti c'è una promozione per voi dai il benvenuto anche agli altri tu lili a perché c'è judy giusto saranno tutti impegnati a a fotografarla se io sono qua per la giornata speciale dedicata agli scarabè in padella ma possiamo togliere sta cosa mamma mia spunta fuori ogni cinque secondi nara cosa c'è perché mi sei triste arredamento scadente è tesoro non si può avere tutto l'arredamento bella fuori da questa stanza guardate che bello comunque il nostro ristorante a lei potrebbe o no non potrebbe in realtà no perché i cuori ci sono salì ma lascia stare che ti frega vieni qua no lui ci dà un 3 così perché gli andava vieni qua a dare il benvenuto alla nostra star della giornata judith ward e anche a magari controlla la situazione al tavolo ma secondo me la nostra daniela ha qualcosa da dirci vero che era vero che era qualcosa da dirci ti assicuro che gli scarabèi sono un piatto perfetto per il nascituro perfetto prego si sieda ah già una pancia vedi vedi dai benvenuto salve signora alberghini la vedo in forma non l'ho mai vista qui forse sì una volta non mi ricordo la vedo in forma non vede l'ora di provare il nostro piatto speciale della giornata si sieda si sieda che la serviremo in un batter d'occhio tu basta dara hai già fatto abbastanza e quindi c'è gente qua no non c'è gente qua e niente vieni allora abbiamo lodato prima di lodare però vediamo che chiedi come va il lavoro vediamo come se la cavano con gli scarabèi perché vediamo prima di tutto com'è la situazione poi casomai la lode perfetto stanno arrivando i primissimi scarabèi e sono per il signor joele il signor joele la signora fatima no sì ha preso solo da bere ma sul serio dai benvenuto acqua tra l'altro hanno preso il town town peloso giusto lasciato anche una sola bevanda town town peloso e scarabèi sarà un disastro questa giornata se prendono solo da bere me lo sento ma almeno ho lasciato da mangiare ristorante menù e sì sì che l'ho lasciato possiamo metterlo anche come antipasto mi sa di no però potrei fare il nigiri di pesce palla chi si rifiuta di mangiare gli scarabèi rischia di morire no dai allora facciamo il cioppino dai un antipasto ve lo concedo però insomma gli scarabèi in padella sono 182 simoleon ragazzi vediamo di farli fruttare al momento i clienti non sembrano apprezzare il mio lavoro se non altro non si lamentano neanche ma no noi non apprezziamo il tuo lavoro non ti preoccupare nessuno sta ordinando voi ha giusto state ancora allora gestione contro la situazione al tavolo come era la situazione come era buona bevanda era buona abbiamo anche la vigna la villa vina la vi la vina abbiamo anche il sindaco che sta andando nella sezione vip giustamente allora vediamo dove si siede prego prenda pure un posto signora ciopra noi veniamo qua a dare il benvenuto spero che tu abbia molto appetito fammi sapere se oggi hai bisogno di un consiglio ma quale consiglio c'è solo quello da mangiare anzi due piatti ma pur ha detto la possibilità di ordinare qualcosa che non siano scarabèi sono stata brava sì grazie e se ne vanno così va bene ma davvero stanno dando solo bevande hanno ordinato il cioppino ma facciamo che io volevo fare giornata davvero solo scarabèi ma quanto pare non sono d'accordo per cui alternativa facciamo la ragosta alla termidoro e togliamo il cioppino via se non volete quello voglio dire come almeno non ho preso l'acqua non ci credo quindi non è una buona idea almeno è acqua si non è una buona idea fare un menù con solo una bevanda e un cibo almeno questo è buono si narani è sempre brava possiamo controllare la situazione al tavolo sarebbe utile in questo caso i punti i punti degli extra quelli che ci permettono di ah sì clienti curiosi di tanto in tanto fa chiedere ai clienti un consiglio su cosa ordinare e sblocca la possibilità di suggerire piatti attraverso l'interazione sociale consiglia un piatto oppure mance munifiche però non abbiamo punti sufficienti non so se attendere la fine di questa giornata per per sbloccare questo però effettivamente per 250 punti potremmo anche fare questo così li consigliamo gli scarabèi salve salve no ne è già stato dato il benvenuto e i signori alberghini non posso consigliare ancora il piatto comunque dai il benvenuto non ci credo che ordinano solo acqua per davvero e controlla la situazione al tavolo tramite daniela beh lei effettivamente più che acqua non può bere perché il town town peloso credo che sia credo che sia alcolico però decisamente no non è una buona idea avere solo acqua o town town peloso per cui torniamo a modificare il menù ma c'è il succo di jet difficoltà 1 beh anche questa è difficoltà 1 o se no succo di cupido rendiamo tutti flirtanti o altrimenti se no facciamo proviamo proviamo oggi giornata di esperimenti dato che non dobbiamo occuparci dei figli io volevo fare una bella foto ai piatti di scarabèi niente nemmeno questa gioia nemmeno questa e poi davvero pochi pochissimi oggi al ristorante dai priorità no non ci serve a nulla possiamo magari consigliare un piatto no gratis un tubo proprio consiglia un piatto o allora noi ti consigliamo succo di jet e scarabèi bombardieri per un costo ecco c'è il punto di domanda per il modico prezzo di 500 simoleon consiglio questo piatto gli ingredienti sono arrivati dalla fattoria stamattina erano gli scarabèi che hanno trovato in fattoria mezzo alle stalle no mentre ripulivano hanno trovato questi scarabèi ecco sono sono freschi dai benvenuto e lascia stare d'ara mamma mia ragazzi e controlla la situazione al tavolo e lui l'abbiamo già salutato mi sa di sì bene lascia stare d'ara mamma mia salì in cosa c'hai oggi la fregola mamma mia stiamo assistendo in diretta alla litigata dei coniugi feng benissimo signore sta arrivando il suo piatto a meno che non sia per il tavolo per il tavolo degli alberghini vediamo cosa hanno ordinato oh la ragosta alla termidoro e il town town peloso che com'è la ragosta normale dai 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 se la sta cavando bene la nostra amica è la per cui andiamo subito salì dato che non devi stare con le mani in mano l'oda l'odiamo e vediamo qua cosa è arrivato a ragosta anche per loro si vede che gli scarabèi non è che piacciono tantissimo di nalani eccellente perfetto andiamo a lodare anche nalani loda e non c'è nessun altro qua che che ci chiede un consiglio no eh però gli scarabèi li terrei come come piatto generale per chi chiede un consiglio provi i nostri scarabèi sono freschissimi qua è arrivato il piatto controlla la situazione al tavolo com'è come va ma con tutti i posti che ci sono proprio qua dovevate mettermi vabbè come va signore tutto a posto stavo giusto controllando insomma che andasse tutto bene gestione dai il benvenuto e ah questo è jacques villareal e cosa ho fatto e controlla la situazione al tavolo flortante addirittura e tesoro io ti vedo che sei inquieto oggi salim per cui per favore fai qualcosa tipo gioco una partita gioca a blocco oblique perfetto ah li ha già mangiati gli scarabèi no non mi chiedono più consigli sui piatti non chiacchierare con salim Dara vai a dare il benvenuto ai nostri clienti no le ho fatto ancora fare un piatto di scarabèi qua c'è più nessuno no ma sbaglio o è peggiorata l'affluenza di clienti in questi ultimi due episodi non so come questa impressione dai il benvenuto questi sono qua tipo da tre anni possiamo no non possiamo velocizzare la consegna l'evasione dell'ordine l'evasione dell'ordine non so perché l'ho detto e qui non possiamo più fare niente per cui boh queste resteranno qua per sempre mi sa e dai il benvenuto ragazzi nessuno vuole un consiglio su un piatto non è che sono le 23 vorrei oh consiglio un piatto grande grande signore succo di jet e scarabèi bombardieri saltati in padella adesso terrò d'occhio questo tavolo questo signore e fotograferò quando gli arrivano gli scarabèi però vedo tanti quattro oh a loro sono arrivate le aragoste e forse c'erano già prima non lo so no prima c'era altra gente e se riusciamo non c'è più la possibilità di di velocizzare l'evasione dell'ordine boh vabbè controllo la situazione nel tavolo tutto bene signore però un sacco di piatti non stanno arrivando uuuu momento di passione stasera ci sono momenti di passione bravo bravo ti vedo ti vedo concentrato stasera bravo allora anche per quanto riguarda lei Loda e Salim è a disagio perchè arredamento scadente senti vai un attimo eeeh non gradisce videogiochi no perchè è l'unica cosa con cui ti puoi divertire non è vero abbiamo anche la tv comunque dormi e riuscirò a vedere degli sca... uuuu siiii scarabèi bombardieri ma cos'è questa roba ma davvero mi ha consigliato questo signore eeeh me li ha consigliati la proprietaria mmmm non hanno un bel aspetto voglio vederli da vicino si effettivamente non hanno un bellissimo aspetto eh io devo essere sincera su questo come sono almeno? me lo fa vedere come sono? no non me lo vuole dire non me lo vuole più dire me l'ha detto a parte che ho premuto cosa cavolo sto facendo anche io ho premuto così tanti tasti che non capisco più dove sono ok e quindi ci stiamo dando una sbrigata a loro questo non ordineranno mai anche se il locale ha ottimi prezzi però a quanto pare abbiamo un una sirena qua un tritone meglio perché loro sono resti a ordinare questi piatti si vede che non ce n'è uno che gli piace e i nostri cosa hanno ordinato? aragosta ovviamente il hand grab cosa volete che ordini? ah potevo consigliare un piatto vabbè controlla la situazione tavolo e lei ha deciso di mangiare in piedi così perché va di moda va sempre di moda tra i sim dai il benvenuto altri punti di domanda in giro? no qua non c'è nessuno gestione dai il benvenuto e se ti va no i piatti non però il hand grab sta adorando questa aragosta tra l'altro è normale va bene uh abbiamo anche bjergsen eh tesoro lo so che fanno anche tu dai il benvenuto uh abbiamo el faba controlla la situazione al tavolo e adesso ti faccio dare il cambio da salim ma anzi tu vai nel tuo bellissimo ops non volevo fare questo nel tuo bellissimo appartamento apri eh lo so che stanno cominciando ad avvertire la stanchezza ehm allora facciamo che non mettiamo nuovi clienti serviamo quelli che ci sono già e vieni tu salim a dare il cambio ad aram però magari mettiti eh abiti normali grazie o meglio quelli del lavoro e vieni qua eh si stanno tutti iniziando ad avvertire la stanchezza dai ragazzi gestisci michela l'oda e lo diamo anche nel anni per cui l'oda lo diamo tutti tutti si è messa a mangiare qua dara va bene come vuoi comunque sì magari non è stata proprio la miglior giornata di sempre contro dai il benvenuto abbiamo anche simeon per cui abbiamo due incantatori qua proprio qua nel nostro ristorante stasera abbiamo avuto clienti speciali quindi in teoria dovremmo avere solo loro e ti stai spicciando salim dai lo diamo anche uku l'oda non possiamo più consigliare però che piatti dare controlla la situazione al tavolo e lo diamo anche frog l'oda e lo diamo anche dov'è la nostra cameriera ah è qua dietro non sei nascosta pur di non venire più fuori l'oda e no non possiamo consigliare i piatti comunque che la bjergsen venga qui con simeon mi puzza questa cosa eh mi puzza dai ragazzi ultimi clienti comunque nessuno ha ordinato di sua spontanea volontà gli scarabei ok ah no il cliente che era qua lui si però mangiano velocissimamente poi se ne vanno eh vediamo loro cosa hanno scelto la ragosta ok a lui non piace questa ragosta è buonissima non le permetto di ehm di criticare questo nostro piatto ehm anche tu Salim mangia e prendi un cupcake e la nostra è andata a guardare la tv stai morendo di sonno tesoro lasci stare la tv adesso che hai riscoperto le gioie della tecnologia ah stava guardando quello col piatto in mano adesso si metterà a letto quel piatto perfetto Dara che problema hai dormi tesoro anche col piatto in mano va benissimo e niente non vuoi dormire vabbè ragazzi ehm fate un po' come volete e niente io direi che possiamo chiudere perché i clienti tranne questi se ne sono andati tutti per cui chiudiamo e vediamo oh però l'utile netto è stato di 4.000 simoleon a sto giro dai dai niente male ehm però le stelle sono calate ma ma questa cosa non mi piace per niente allora vediamo a che punto sono i nostri dipendenti sono quasi allora lei è quasi a livello 5 lei è praticamente top ma non ha nulla di particolare da da dover fare loro anche top lei ci sta arrivando però dai quindi io direi che come prossimi ehm menu possiamo ehm fa allora vediamo di modificare di mettere piatti per lo più da 5 perché vedo che i piatti da 5 comunque ehm la nostra Michela riesce a farli bene se la sa cavare li fa cioè non li fa eccellenti ma li fa normali per cui io direi che possiamo puntare d'ora in poi più in alto ed eccoci qua con il nostro nuovo menù praticamente vabbè a parte l'acqua ho messo anche qualcos'altro per i bambini il tè freddo poi vabbè qualcosa di penso alcolico però insomma che che sia più giovanile ecco poi abbiamo un ottimo vino rosso potrei aggiungere anche un vino bianco in effetti il vino bianco più costoso è questo però 77 solo 77 seri vabbè lo aggiungiamo va bene e poi vabbè ho lasciato le specialità della casa che sono il town town peloso e il succo di jet che sono perfetti poi come antipasti poca scelta qua in realtà abbiamo il cioppino per cui un pesce poi asparagi nel prosciutto e asparagi nella pancetta vegetariana così c'è anche l'alternativa vegetariana e dopodiché anche qua ho ridotto i piatti per cui ho messo dei secondi come per esempio le salsicce il purè uno vegetariano poi ho messo il pasticcio di tonno e di verdure poi abbiamo sempre altri primi come tortellini alla ragosta oppure quelli vegetariani e poi ho lasciato le specialità della casa la ragosta e la termidoro e gli scarabè i nostri scarabè adorati che solo in due hanno osato prendere perché uno consigliato poi per quanto riguarda i dessert sono rimasta un po' stringata perché tanto i dessert non li prendono mai se proprio vogliono i dessert almeno che paghino per cui gelato caldo e torta di meringa l'essenza di pianta mucca che sono i due più costosi ovviamente per cui confermiamo anzi anzi io direi che potremmo anche fare un'altra cosa mettere i vestiti formali o da festa facciamo formali dai perché questa sì è un'attività chic ormai la proprietaria che gira in pigiama con il piatto in mano ecco è il perfetto esempio del livello del nostro ristorante io direi che i nostri sono cotti noi possiamo terminare qua questo episodio tanto i bimbi non ce li possiamo portare dietro per cui nel prossimo episodio che cercherò di fare in modo che sia l'ultimo vedremo la nostra dara che tenta di vendere al suo chiosco l'ambrosia a un fantasma vediamo quante volte dovrò provarci se lavi questo piatto tesoro ti togli quello che hai dalla mano vai a casa salim dara ti raggiunge tra un po' per cui terminiamo qua questo episodio è l'ora di concludere questa serie ormai ah tieni entrambi in mano va bene spero che questo episodio con le sue stranezze vi sia piaciuto lasciate un bel like fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti mi fa sempre molto piacere vi ricordo che in descrizione trovate il link a tutte le mie serie ai social restate fino alla fine per scoprire nuove serie sul mio canale detto questo vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione noi ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda stupenda giornata ciao a tutti ciao a tutti